Sì, parliamo del concorso Miss e Mr. Baby che si dirà qui a San Giovanni Tiatino questa sera e per cui noi chiediamo all'amministrazione comunale un'attenzione maggiore di quella che stanno dimostrando. Voi avevate chiesto l'annullamento dell'evento? E continuiamo a chiederlo, siamo sempre in tempo e continuiamo a chiederlo anche come partito lo abbiamo fatto in altri luoghi di questa regione ma anche, mi viene da dire, su scala nazionale perché questo tipo di attività non va incontro a quelli che sono i nostri principi. A parlare così è Domenico Di Michele, coordinatore di circolo del PD. Il Partito Democratico chiede al Comune di San Giovanni Tiatino di blocare infatti il concorso Miss e Mr. Baby perché ritiene l'iniziativa inappropriata e lesiva nei confronti dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie. Sì, per noi del circolo franca chiacchieretta del Partito Democratico di San Giovanni Tiatino e dei giovani democratici della provincia di Chieti questa iniziativa non può e non deve essere banalizzata. come qualcuno sta cercando di fare, addirittura riducendola a una semplice gara tra bambini e bambine. La stessa comunità scientifica, in ambito psicologico, e mi riferisco ad esempio all'American Psychological Association, condanna fermamente questo tipo di iniziative e questi eventi perché attraverso le loro ricerche e i risultati di queste ricerche si è dimostrato come queste attività e l'oggettivazione del corpo vanno ad incidere negativamente su quelle che sono l'autostima o comunque tutti quegli aspetti che ruotano attorno alla costruzione di un'identità di un individuo, a maggior ragione se parliamo di bambine e bambini. Il PD parla chiaro e forte di immercificazione del corpo, soprattutto di quello dei bambini. Insomma, la polemica sale in passerella baby. Per noi l'oggettivazione del corpo ma anche rendere la bellezza insieme alla complessità di un individuo in un'iniziativa di questo tipo non è altro che immercificazione del corpo. Per noi ben vengono iniziative ludiche, ben vengono le attività di aggregazione per i nostri giovani, per i nostri adolescenti, i bambini e le bambine, ma che abbiano un aspetto educativo e non dimostrativo.